David Bowie con Change alle 7.38 minuti, ben ritrovati, bentornati qui su Crystal Radio Good Morning Milano e andiamo con la rubrica più importante della settimana, almeno così dice lei. Gli eventi della settimana a cui io, Eri B, non andrei... Buongiorno Eri B, benvenuta. Allora, questa qua è la rubrica delle rubrichette. Ah, la rubrica delle rubrichette. Sì, esatto, esatto. Grazie mille per avermi invitato anche questa settimana. Ancora. Ma perché? Scusami, sono educata. Va bene, è strano, è strano sentirti educata. Tra l'altro sono molto contenta di arrivare dopo Carla. Ah, ok, benissimo. Perché sono a favore della sua battaglia, assolutamente. Tutti i bambini dovrebbero essere educati ai musei, infatti per questo io li frequento molto poco. Ecco, benissimo. Infatti, tu che defini una roba di bambini dove di solito tu non vai da nessuna parte dove ci sia qualcuno sotto i dodici anni. Sì, però, secondo me, visto che io, quando ero bambina, almeno con la scuola, e forse anche qualcosa con i miei genitori, perché qualche ricordo ce l'ho, sono stata portata nei musei. I tuoi genitori al massimo ti portavano la festa dell'unità, lo sappiamo benissimo. Sì, ma anche quello è stato molto formativo. Del resto il disagio me lo porto da quando ero bambina. No, però voglio dire, secondo me è una cosa corretta. Quindi, care mamme, fate le vostre battaglie, fate diventare delle persone migliori, i vostri bambini, facendogli apprezzare l'arte. Il problema nasce quando la mamma... Apprezza l'arte e mettila da parte. Quando le mamme non sono migliori dei bambini, quindi nasce lì il problema. Non nel caso di Carla, invece, dove invece... No, 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 esatto. Go, Carla, go. Va bene. Andiamo avanti, cari amici, siamo qua non per dire stupidate, ma per raccontarvi degli eventi a cui io non andrò, ma voi sicuramente sì. Allora, parte con questa settimana, cioè, scusate, con questa sera. Ok. Oggi, 5 aprile, corretto, un evento gratis, dove in realtà potrete spendere tutti i vostri soldi, è la Notte Bianca in Bovisa, tra shopping e divertimento. Chissà che divertimento. Perché adesso sentiamo il nostro Lorenzo Masieri della Bovisa. Esatto, volevo proprio un collegamento con Lorenzo Masieri per capire se andrà, ma sicuramente sì. E io non so perché, ho il divertimento, cioè, da quando ho letto questo evento, penso solo al mangiafuoco. Ah, va bene, che è un ristorante, no, cos'è? No, il mangiafuoco. Ah, ma perché? Magari non c'è, c'è? Non lo so, però io ho pensato al divertimento e mi è venuto in mente, oddio, il mangiafuoco, ho iniziato a sudare e freddo. Dovremmo chiedere a Simone Lunghi, che è un mangiafuoco. Ecco, vedi, ecco, ecco. Poi, allora, questo fine settimana è fitto di eventi, a partire da oggi, fino al 7 di aprile, all'arco della palace, ed è gratis, c'è una roba che a me nervosisce, cioè Flora et Decora 2024. Colori della primavera arrivano a Milano, quindi potete andare lì, comprare le vostre piantine e farle morire tre giorni dopo. Ma perché? Perché io al pollice nero, purtroppo, in realtà sono molto invidiosa, è per questo che non vado a questi eventi, perché ci sono gli infognati di piante, che loro sono molto bravi, e io, invece, sono una cagna. Ok, quindi non ci vai perché ti vergogni. Sì, un po' sì. Ok, va bene. Poi, ho scoperto questa roba molto interessante. Domenica 7 aprile, dalle 9 alle 17, a Bareggio, quindi scusatemi se non è proprio Milano, ma fa niente. No, Milano, città metropolitana di Milano. C'è il campionato italiano di OCR. Tu sai che cos'è l'OCR? È quella funzione che lo scanner ha quando scannerizzi un'immagine e traduce l'immagine in testo. No, te lo dico un po' con il mio inglese maccheronico. Ok. È obstacle. Obstacle? Ok. Course, race. Una course, ostacoli. Bravissimo. Perché non lo possiamo dire in italiano? Quindi... Ma per cani, per persone umane? Ah, ok, no. La definita così, l'evento... Cioè, quindi, l'evento è campionato italiano OCR a Bareggio. Un'esaltante... Esaltante ho scritto. Sì. Un'esaltante celebrazione dello spirito del movimento... Del movimento 5 Stelle? Del movimento nel senso di muoversi. Ah, scusa. Dove all'OCR Park ha Bareggio. Vuol dire che Bareggio ha un OCR Park. Ma non è che è una roba tipo il parkour? No, no. Oh, obstacle, course, race. Eh, ma obstacle, cioè non ostacoli. Non lo so. Secondo me è single. Course non vuol dire corsa. Che cazzo ne so io. Ma vado a se forse. Scusate, scusate. Io vi dico... Race vuol dire... Siete voi gli esperti dell'inglese. Io sono questa cosa. Comunque potete andare domenica dalle 9 alle 17. L'offerta è libera. E infatti, allora, l'OCR è una via di mezzo tra le prove di American Gladiator, per intenderci. Oh, madonna. E infatti sono vestiti anche da... Da gladiatori? No, qui c'è un vestito da vichingo. Bello. Ci sono queste strutture, adesso te le faccio vedere a te, vedi? Ci sono una sorta di... Avete presente quella trasmissione American Gladiator? Sì. Ecco, e poi lo Spartan Race. Ah, sì. Ecco, mettete insieme queste due cose, quindi correte, ma poi ci sono degli ostacoli da superare, dei muri da saltare, delle gomme su cui entrare dentro, del fango su cui... Sì, è presente, è presente. Poi quelle robe anche da Marines, per intenderci. Ci ho messo insieme e fate un po' più divertente. Mi raccomando, cioè, andate, guardate che cosa c'è, non fatevi male, perché l'ospedale non è proprio vicinissimo, io ve l'ho detto. Ok. Poi, questo... C'è quello di magenta vicino. Esatto, devo ringraziare la mia amica Marilena, che settimane fa mi ha mandato un cartellone che era per strada, il 6 e il 7 di aprile... Leggelo bene il cartellone, l'ultima volta hai detto che c'era una partita che non c'era. Esatto. C'è il Vapping Expo Milano. Ah. Sai che cos'è? Quello delle zanzare. No, sigarette elettroniche. Ah, ok. È la fiera dello svapo. Eh, va bene. Mamma ragazzi, sabato dalle 10 e le 19, domenica tra le 13 e le 19, perché la domenica mattina è aperta soltanto agli addetti ai lavori. Pensavo sulle bambini, pensavo. Questa roba, vi giuro, credo sia pagamento, se no vorrei che la mia amica Marilena ci andasse per dirmi, ma chissà che cosa c'è dentro. Vabbè, ma non c'è niente, cioè, sono le novità nel mondo dello svapo. Ne avevamo bisogno? Personalmente no, però tante cose che non ho bisogno. Tanto abbiamo scoperto che quella roba lì fa quasi peggio delle sigarette. Non è vero, non è vero. Boh, le sigarette usegetta fanno male all'ambiente, ma hanno scoperto che fanno male anche alla persona. Non diamo notizie, non sei un medico, non diamo notizie di cui... Ah, non sono un medico. No, non mi spiace dire te la mano. Ah, io penso di essere un medico. No, non ancora. Comunque, andate tutti numerosi e fatemi sapere com'è, perché sono molto interessata di questo. L'ultimo, invece, devo ringraziare sempre la mia amica Adriana, che ieri si è salvata quasi in corno, nel senso che avevo già terminato i miei eventi, ma aprendo Facebook come una boomer qualsiasi, ho guardato che cosa erano gli eventi dei miei amici e lei ha detto che sabato 6 aprile, tra le 16 e le 23.30, andrà all'ex area Pozzi a Corsico, che c'è il Giardino dei Visionari. Festa di primavera al parco. C'è un DJ set, c'è lo yoga, c'è la meditazione, c'è lo smudging, che se vuoi andare a vedere che cosa è. C'è lo smudging, smudging ceremony, quindi la cerimonia di questo smudging. Ah, smudging, smud. Poi c'è il make-up, poi c'è tarot reading, che ho scoperto essere i tarocchi, poi ci sono live performance, ma questo smudging non mi ricordo. Dai fuoco a delle erbe che fanno... Ah, tipo gli incensini? Sì, più o meno. Tipo il palo santo? No, allora tu prendi le erbe aromatiche, ci fai, tipo quando fai l'arrosto, ci fai un bel trito di erbe insieme, le leghi insieme, poi gli dai fuoco e ti dovrebbero aiutare nel rilassarti, oppure nella tenergia. Io vi ringrazio, amici, che mettete like e che parteciperete a questi eventi, perché mi regalate delle perle pazzesche. A me non verrebbe neanche mai in mente di andarlo a cercare. Grazie. Comunque, volevo dirti che al 3317853555, Marilena ci ha appena scritto e ci ha mandato una foto di lei che sta svapando. Ecco, appunto, per questo vorrei che lei andasse. Cioè, perché così almeno mi dici... Ambasciatrice di Cristalania... Cioè, io vorrei in realtà che qualcuno di voi ci scrivesse dicendo Oh, sono andata a quell'evento che hai detto di me che non saresti andata. Uno, brava non c'eri. E questa cosa è fondamentale. Ok, giusto. Due, guarda che era interessante. Guarda che ho fatto questo. Ma tu preferiresti che ti dicessero che è interessante o hai fatto bene a non venire? No, io preferirei che mi dicessero interessante, perché così conferma il fatto che ho fatto bene a non andare. Vabbè, non l'ho capita ma fa niente. Ho avuto un attimo di blackout cerebrale. Perché mi piace che le persone siano diverse da me. Ah, ok, ok, chiarissimo, chiarissimo. Ok. Non c'è dell'egocentrismo in tutto questo. No, no, assolutamente. Se vuoi fare lo smudging puoi andare fuori. Qua c'è il rosmarino, ad esempio. Gli metti un filo di rosmarino, poi un pezzo di glicina, un pezzo di glicina, un pezzo di menta, una rosa, leghi tutto con una bella cordicina colorata, gli dai fuoco e poi, non ho capito, vai in giro cantando... Così, a un puzzolire tutta la carne. Cantando battiato, non lo so. Comunque, di tutti questi, cosa ti piacerebbe fare? Ah, ti dico, smudging, effettivamente... Un cambierio. Non lo so. Non si finisce mai di conoscere le persone, è proprio vero. No, è simpatia, è stata una cosa che ti fette anche la cordina per legarli. Sto leggendo un bellissimo articolo su gardenbattistini.com dell'arte dello smudging. Si scrive smudging, con la U, eh? Sì, smudging. Smudging, smudge stick, letteralmente bastoncini di fumo. Andate un'occhiata, va bene. Ok. Va bene. Va bene, grazie a voi. Come è sempre un piacere essere invitata in questo spazio, non nel mio, ma in questo tuo spazio, che mi concedi. E niente, vi auguro un serenissimo weekend e ci risentiremo la prossima settimana. Va bene, hai fatto il compitino. Di che cosa? Dei saluti. Sì, sì, certo. Va bene. Buona giornata. E andiamo avanti con la musica, allora. È il 2024 e siamo in Italia. Ce lo dicono anche Fabio Fribra, insieme a Demma e Baby Gang. Sì, 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 sì.